Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Nier Replicant. Dopo aver conosciuto Emil e scoperto che in realtà è stato il Maggior Domo a scrivere le lettere per Yona, oggi finalmente, a quanto detto dal Maggior Domo, potremmo trovare la cura definitiva al difetto, chiamiamolo così, di Emil, ovvero pietrificare le persone o tutto ciò che guarda e renderlo finalmente normale. Quindi, direi di poter andare. Tra l'altro Emil adesso combatterà il nostro fianco. Abbiamo ottenuto la chiave oscurità che ci consente di aprire la stanza nella parte, diciamo, della villa che non siamo riusciti ad esplorare, quindi dobbiamo tornare indietro. Guardate, Emil, che cosa è in grado di fare. E possiamo aprire la porta oscurità, che era questa qua sotto, vero? Se non ricordo male, era questa. Ecco. Guarda, vedete, Emil è completamente sciotta i nemici. Li pietrifica e li sciotta. No, comunque la porta... Oh, guardate qua il quadro come si è modificato ancora. Era questa la porta oscurità. Anzi, no, scherzavo. E allora sì, era quella di prima che avevo detto io. Cioè, tra l'altro lui ha le ombre in casa. Cioè, ha le ombre che gli sponono in casa. Mamma mia. Mostruoso, Emil. Lama del tradimento. Questa è un'altra spada. Eccola qua. Che però ovviamente non... Eccola qua. Eh, salvataggio che non funziona per il momento. E ora, ragazzi... Eh già. Questa è un'altra. è già un altro grimorio non 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 dobbiamo fare attenzione a quando apre le pagine vedete è Emil che ci aiuta pietrificando le pagine bravo Emil bravissimo esatto eccola oh Ahahahahha Questo è il problema di me, io sono un po' di voi, per farlo a tutti. Non, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non è vero, non è vero. 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 Sì! Ora! è ottenuto un verso sigillato vortice oscuro anche questo non è male soprattutto quando ci sono tanti nemici si ha un nome sebbastien 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 poi vabbè è vero 覚えておけ カイネ さん これは罪ではない これ自体に罪はない 大事なお前自身だ 決して忘れるな これは 魔物 どうして これは呪われた武器 復讐が終わった今 もう必要のないものだと思っていた そして私自身も 終わりだと思っていた この腕も私もまだ生きる意味があるように お前にも未来があるはずだ カイネさん だがもし 私のこの体が ねえ カイネさん 約束ですよ 絶対に 僕は絶対に諦めません じゃあね はい ヨナは病気がちであまり外に出れないから もしよければ時々手紙を送ってもらえるかな はい喜んで 皆さん お元気で うんまた会おうね エミールの目が早く治ることを祈ってるから おい さっきはエミールと何を話していたのだ せいしょうねんに悪影響を及ぼすような言葉は 儚かかっただろうな なんとか言え このしたぎょんな ごめんなさい 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 シロー おちつきなよ でも これで すべて すべての ごめんなさい 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 あとは 黒のショットやなを 見つけるだけだな そう 絶対に 見つけだして よなを 助けるんだ ごめんなさい incredibili bene a quanto pare abbiamo finito di raccogliere i versi sigillati li abbiamo presi tutti e quindi adesso possiamo andare a salvare la nostra la nostra sorellina almeno questo è il piano un po' di più Sì Sì Da un lato fa anche molta tenerezza Il fatto che lei comunque Si senta quasi in colpa di stare male Allora andiamo dalla Mami Allora andiamo Allora andiamo Allora andiamo Allora andiamo Allora andiamo Allora andiamo Che per il momento La trama Ha preso Quasi una pausa Da tutto quello che stavamo vedendo poco fa Ma Vedrete Esatto Esatto Allora andiamo Allora andiamo Esatto Allora andiamo 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Ahia E'a Fino E'a 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 E E E E Grazie a tutti. Nooo, no, e non ci credo che sfiga. Qua veramente, veramente, qui incredibile. Non dirmi che non lo devo rifare. Ok. Non dirò che si è piaciuto. Non dirò che sia piaciuto. Non dirò che si è piaciuto. Sì oi 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 e vabbè però oi 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 o o oi 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 Grazie a tutti 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 Ci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Perfetto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti